Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova serie, io sono Indoraptor 23.0 e benvenuti in un nuovo episodio di Indoraptor 23.0 Ragazzi non so perchè non mi hanno incartato, vabbè comunque ragazzi voglio cominciare questa nuova serie che si chiama Grocery Store Packs che in inglese significa i miei animali domestici del supermercato che ragazzi allora questa serie sarà tutta dove salvo animali dal supermercato tipo per esempio oggi ho salvato due ostriche concavate all'esse lunga e il prezzo al chilo era 11,50 quindi infatti le ho pagate solo 2,96 euro quindi sì sono anche le cozze più economiche come ho mai visto e sì ne ho salvato due, sono il nome scientifico e il crasso Strea Gigas che sono stata allevata in Francia e il nome comune è ostrica concavate, ne ho prevede due che sono vive e sì le metterò poi, ora vi farò vedere che le salverò mettendoli in un acquario anche se in realtà penso che le metto in una quarantena per ora e poi andranno penso nel mio acquario marino mediterraneo sì ragazzi quindi spero che questa serie vi piacerà questo è il primo episodio dove salvo due cozze concavate e sì ora andremo ad aprire la busta e andremo a metterle in acqua per salvarle ecco ragazzi apriamo la busta io la aprierei direttamente da qua ragazzi con ste forbici taglia tutto ecco ora dovrebbe essere abbastanza aperto ecco eccole ragazzi ho già deciso i nomi una la voglio chiamare frittella e l'altra frittata spero che i nomi vi piacciono, sono un po' buffi ma a me piacciono quindi saranno frittella e frittata ora le ragazze insieme decideremo quale sarà frittella e quale sarà frittata aiuto sono chiuse nella busta ecco provo ad aprire da qua ok aperte bene poverette ecco ragazzi abbiamo questa e quest'altra non fate caso che mi sono disegnato sulle mani però era solo per ricordarmi delle cose ok ragazzi ce ne abbiamo una che è piena di robe bianche rugose fatte dai vermi bella qua c'è un angolo tutto bianco e poi abbiamo questa qua con dei colori bellissimi qua sulle punte un po' d'alghe ok qua tutto è roba bianco però secondo me si potrebbe riconoscere perché qua è piena d'alghe controlliamo se l'altra non ce l'ha no infatti sotto ragazzi l'altra non ce l'ha e quindi si ragazzi io direi che questa qua con le alghe sarà frittata secondo me ci sta un botto e quest'altra qua frittella spero che vi piacciono i nomi ragazzi ok ragazzi ora ci sarà un piccolo altro taglio e andremo a mettere in acqua ecco ragazzi qua c'è l'habitat che io ho preparato c'è una lampada il filtro non guardatelo perché non c'è perché pensavo che funzionava hanno scoperto che non funziona quindi per ora c'è solo un ossigenatore domani andrò a comprare un filtro della sabbia di bora bora d'acquari marini e due rocce vive ovviamente l'acqua salata e adesso ragazzi vi metto una buona visuale e vi faccio vedere che metto frittata e frittella dentro ecco ragazzi mettiamo frittata dentro vai frittata frittata è dentro ragazzi ora frittella vai anche te su ecco ragazzi ora sia frittella sia frittata sono dentro spero che faranno una bella vita invece di essere mangiate le abbiamo salvate quindi ragazzi questo è il primo episodio di grocery store pets i miei maldi al supermercato salvati spero che il video vi sia piaciuto spero che tutti gli animali che ho salvato e che salverò a voi vi sembravano buona idea di salvare questi poveri animali dalla morte assicurata e si ragazzi quindi abbiamo salvato due ostriche esattamente due ostriche concavate e si spero che vi sia piaciuto il video e si il video finisce qui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace e da me il mio bellissimo atto di salvare dei poveri animali ciao ragazzi